Grazie, altri 30 secondi, abbiamo esaurito le lire. Il professor Bagnai ha detto onestamente che è di sinistra, io volevo chiarire che sono certamente non di sinistra e leghista, anche se da quello che ha fatto la Lega dal 99 in poi non sono molto d'accordo. Sono 14 anni, è preoccupante. Non sono, ho parecchie critiche da fare. Quello che volevo dire è che però questa questione dell'euro ha dei fondamenti reali e ci sono delle motivazioni per lasciarlo che possono accumulare sia gente di destra, sia gente di sinistra, sia leghisti, sia meridionali, quindi si tratta di discutere sui dati, ci sono alcuni punti che a me non piacciono di chi propone l'uscita dell'euro, perché in qualche modo dipende anche dalla formazione, della propria formazione, viene accumulata per esempio con spesa pubblica, difesa dello Stato, adesso si parla anche di banca centrale che è sotto il controllo politico, che stampa moneta. Spiego perché io sono contrario a fare tutta una zuppa di tutte queste cose e vorrei che i vari argomenti venissero gestiti in certa misura, almeno separatamente. Allora, moltiplicatore keynesiano, può darsi che più spesa pubblica aumenti il PIL, però sicuramente arrivare al 100% non ha funzionato e quindi non è un valore assoluto. Io credo che in realtà funzioni solo nel breve termine e non costruisca crescita a duratura. La banca centrale è stata scissa dal controllo politico nell'81 perché precedentemente c'era stato il periodo di stagnazione e inflazione, cioè usare la banca centrale per fare inflazione alla fine non aveva funzionato. Poi c'è stato anche il PIL. Comunque la cosa complicata non ho solo 30 secondi. Allora, quello che vorrei dire io è... Dunque, diciamo che una domanda non ce l'ho, volevo fare queste critiche ma... Penso che Bagnai abbia colto il fatto che lo Stato... Diciamo che ho espresso qualcosa per cui delle risposte ci possono essere. Chiarissimo. Posso, cedo il microfono a Bagnai, con una notazione di servizio giornalistica a proposito del fatto che non è una battaglia di destra, di sinistra, del nord, del sud, della rava e della fava, ma è la battaglia del buonsenso contro l'idiozia. Il Consiglio federale della Lega Nord, che era in corso mentre eravamo qua, ha ufficializzato la richiesta di invitare al suo congresso, quindi domenica 15 dicembre a Torino, siete tutti ovviamente invitati, tutti quei movimenti che hanno la nostra stessa posizione nei confronti di questa Europa e di questo euro, quindi i francesi, gli austriaci, gli olandesi, i danesi, a prescindere dall'estrazione politico-culturale di provenienza. Allora, visto che non c'era una domanda, non ci sarà una risposta ma un breve discorsetto del seguente tenore. Innanzitutto il fatto che questo momento storico richiede il superiamento delle barriere ideologiche è stato perfettamente colto dalle persone di buonsenso. Io mi sono rivolto, come ho raccontato, principalmente alla sinistra e prima ho scherzato sul fatto che la Voce.info non abbia pubblicato un mio post in cui preventivavo il fallimento di Monti, ma è stato molto peggio con un dibattito sui forum di sinistra, dove c'è stata una censura della quale tanti altri si sono lamentati, per esempio Sergio Cesaratto, per esempio Grazzini, per esempio io, e quindi ho imparato anche a ricalibrare un pochino la scala dei valori fra sinistra e destra, non tanto da un punto di vista della proposta politica, quanto proprio dell'atteggiamento antropologico verso la libertà di pensiero. A me non è mai successo. Ma vedete, ogni volta che voi battete le mani mi date una frustata come Cristo alla colonna, perché io mai avrei voluto dire questa cosa, però purtroppo è vera e ho deciso di dire la verità. La sinistra censura, la destra, non lo so, ma finora non mi è mai successo. Bravi, ma forse voi avete fatto un percorso diverso. Perfetto. Dopodiché, i simpatici politici, diciamo, come si dice a Roma, il più pulito c'ha la rogna, ma il problema non è questo adesso, esclusi i presenti va da sé, ma non è questo il problema. Il problema è capire chi è che apre al dialogo. Allora vi dico che io, il 7 dicembre, è stato richiesto alla nostra associazione la consulenza scientifica per organizzare un incontro, al quale verranno Jacques Sapir, che è un economista marxista che sta, diciamo così, dopo aver scritto il programma politico del Front de Gauche, cioè del partito della sinistra e di sinistra in Francia, si trova adesso ad essere il consulente de facto di Marine Le Pen perché dice che bisogna uscire dall'euro. Dopodiché verranno Diego Fusaro, filosofo marxiano che conoscete, il quale propugna anche lui l'uscita e che chiama la sinistra piddina il laboratorio di riproduzione culturale di questo capitalismo devastante. E verranno Brigitte Granville che è un'economista viceversa liberista che propugna l'uscita dall'euro perché ritiene che l'euro, come molti altri economisti del mainstream, hanno dimostrato prima, durante e dopo ostacoli le riforme anziché favorirle e questo sposa un po' la tesi di Matteo. Dopodiché però vorrei essere preciso, noi la spesa pubblica al 100% del PIL in Italia non l'abbiamo mai avuta, se io faccio vedere che l'abbiamo più bassa di altri mi trovo un pochino come certe volte in televisione quando uno fa vedere che il debito pubblico è sceso e ti dicono ma il problema è il falso invalido, sì ma se il debito privato è triplicato fatti un attimo delle domande, ci deve essere anche qualcos'altro. E vorrei ricordare che la stagflazione degli anni 70, intanto negli anni 70 nonostante l'inflazione avesse anche raggiunto le due cifre, questo è documentato nel testo e ve lo ricordate, perché il prezzo del petrolio prima quadruplicò e poi di nuovo raddoppiò, quindi si arrivò a fine anni 70 con un prezzo del petrolio che era otto volte quello quale si era iniziato, nonostante questo l'orrenda banca centrale che stampa moneta aveva comunque consentito ai lavoratori italiani di avere un salario reale che cresceva con la produttività. La fase di controoffensiva è iniziata a partire dall'inizio degli anni 80, un pezzo della storia è stato il divorzio e quello è stato un pezzo della storia che ha permesso di comprimere i salari e che ha permesso di, come dire, l'esplosione del debito, perché come vi ho spiegato il debito non è che nasce per cui uno decide oggi mi è in debito, il debito nasce quando ti comprimo in i redditi e tu devi mantenere il tuo standard di vita semplicemente per assorbire quello che è stato prodotto, oppure fai tante belle astronavi, lo mandi su Marte e il problema lo risolvi così. Quindi sono d'accordo che è una battaglia trans-ideologica ma va gestita in modo organico e è giusto che ci siano delle voci di dissenso perché poi i punti sui quali bisogna confrontarci sono esattamente questi. Grazie. Grazie. Grazie.